Allora Barbara, con lei in quanto docente e anche consulente, alla fine del corso sulla lettura del bilancio di Melfi, alcune considerazioni? Il corso è molto interessante, ha dato la possibilità a me in quanto professionista, ma ai ragazzi in quanto studenti, di vedere i numeri in un'ottica diversa, di dare un valore diverso ai numeri. Bene, del cuscotto? Vediamo, ci penserò, potrebbe essere interessante. Un po' costoso, per la nostra realtà, devo dire la verità.